Sicilato a Teramo nella sede della ASL un importante accordo tra l'azienda sanitaria locale, il Tribunale, l'Inps e il Consiglio dell'Orne degli Avvocati di Teramo per ridurre e accelerare l'iter nell'ambito delle pratiche delle CTU. In particolare l'accordo metterà a disposizione delle parti chiamate in causa locali per gli accertamenti tecnici per i tali obbligatori nati a seguito dell'insorgenza di invalidità civile. La sostanza è garantire nella fase peritale dell'accertamento affidato al consulente tecnico d'ufficio il contraddittorio tra le parti. Le parti significa la parte privata che lamenta ovviamente il fatto che gli è stato rinnegato dalla commissione medico-sanitaria dell'ASL l'invalidità civile e la parte pubblica, l'Inps, che ovviamente deve far valere quelle ragioni per cui quell'accertamento è stato reso negativo, cioè per quell'accertamento è stato negativo. Quindi il contraddittorio tra le parti, capite, è estremamente importante perché questo garantisce il giusto accertamento. Le sedi che l'ASL metterà a disposizione sono quelle di Teramo, Nereto e Roseto. Adesso hanno degli spazi ben definiti dove poter svolgere questa attività e quindi, come possiamo dire, abbiamo agevolato, abbiamo reso neutro. Prima non era ben definita dove queste controversie venissero realizzate. Adesso abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, quindi da supporto alle strutture, di supporto agli enti, ma soprattutto anche un servizio per il cittadino. Abbiamo numeri dell'ordine di 1.300 richieste al mese di prestazioni assistenziali. Rendetevi conto della mole del lavoro e dell'importanza quindi che fin dall'inizio ci sia un filtro, che sarebbe bello garantire a tutti le prestazioni dell'Inps, ma se quelle assistenziali, quelle che si basano su un accertamento medico, sono assicurate senza aver prima sentito tutte le voci tecniche che debbono essere ascoltate dal giudice, potrebbero accadere delle problematiche che immaginate facilmente. Quindi poi nascerebbe, come in molti casi è nato, un contenzioso che potrebbe essere risparmiato se fin dall'inizio tutte le voci in gioco venissero consultate.